Aspetta, aspetta, fammi arrivare. Come hai visto, oggi, leggendo quella cosa, il Puglia ha aperto prima il supporto della tecnologia occidentale e grazie a quella anche ha vinto e ha colonizzato la penisola Perù. Il Puglia ha aperto prima e ha avuto il supporto della tecnologia occidentale e grazie a Bollandia, quelli 80 anni lì, sono molto... Buon battaglio! Questo è un buon baciociato, questo è qualcosa che al Giappone non è una cosa, cioè... No, 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 ma è perfettamente centrato, però io voglio che... Sono come Francia e Italia! Ma adesso... No, almeno... E io sono contento che ti piaccia il mio branzino. Come hai visto oggi, leggendo quella cosa, il Puglia ha aperto prima e ha detto... Noi lì, c'è爭cione che scrive, adesso è l'RI particularly sul hai visto è quando eri mislandi posso lavorare? Sono detto che poi닝erano, ballsiono a essere soprattutto, ora faccio little pardino. Di «iz grobigati il sehen tanto sia su sersiglie». La tedesco con i secchi non c'è Ineco, divặc, adesso... Da madre... E ora che ha come il… Duamente hai visto然后... Per esempio, si giocano bene alcune cose, che ne so, la fioritura. Fede, sono contento che ti piaccia il mio branzino. Mi passi il tuo? Grazie, sei gentilissimo. Beh, abruccito anche se lo chiede.